In Biblioteca Civica l'assessore alla cultura Alberto Parigi e il direttore Antonio Danin hanno presentato i contenuti del patto per la lettura, finalizzato a promuovere il libro e la lettura, coinvolgendo sudalizi e denti che fra le proprie attività ed iniziative prevedono e sostengono le finalità del progetto. Oggi abbiamo simbolicamente firmato assieme a 27 tra associazioni e scuole il patto per la lettura. Cos'è? È un progetto che ci consente di unire le forze per far diventare Pordenone sempre di più una città che legge, una città accessibile a lettura e che promuove la lettura nei confronti di tutti, anche di chi è in difficoltà. Su questo c'è uno specifico progetto, abbiamo già vinto un bando di 50.000 euro, si chiama proprio letture senza barriere. Ma poi la firma di questo patto ci consente appunto di presentare altri progetti che possono essere finanziati, il tutto con un lavoro di squadra che non diventa uno slogan ma si fa realtà. Il punto di riferimento è la biblioteca civica e ad oggi hanno aderito una trentina tra enti, istituzioni e associazioni. Ma per la sua natura e finalità il patto accoglie anche nuove adessioni per incrementare la rete di relazioni tra i soggetti attivi in questo campo. Sono aperte alle istituzioni pubbliche, biblioteche, case editrici, librerie, autori e lettori organizzati in gruppi e associazioni, scuole e università, imprese private, associazioni culturali e di volontariato, fondazioni, ospedali, consultori, enti del terzo settore e a tutti gli organismi che condividono l'idea del valore sociale e culturale della lettura.